Cari amici appassionati di design e illuminazione, benvenuti sul mio canale dedicato alla luce. Oggi vi presento un prodotto rivoluzionario che unisce design e funzionalità. Di cosa stiamo parlando? Non di un lampadario decorativo, ma di un battiscopa luminoso a LED. Immaginate un semplicissimo battiscopa che non solo protegge le vostre pareti, come un tradizionale zoccolino, ma che illumina anche il pavimento, creando un magnifico effetto luminoso. Perfetto per aggiungere un tocco di eleganza e modernità alla vostra casa, senza rinunciare alla praticità. Quindi, se siete in fase di costruzione o ristrutturazione, questa è sicuramente un'idea geniale. Il battiscopa luminoso LED è costruito in polistirene, un materiale leggero ma resistente, che lo rende facile da installare e duraturo nel tempo. Ogni barra è lunga 2 metri, ma può essere tagliata a piacere per adattarsi perfettamente in qualsiasi spazio. E non preoccupatevi delle giunture tra uno e l'altro. Perché? Perché grazie alla possibilità di unire le barre con una colla speciale che vi forniremo, dopo averle verniciate, non lascerà più un segno visibile. Otterrete un risultato finale impeccabile. Unico, direi. Infatti, in commercio ne esistono anche altre soluzioni del genere, ma sono di legno o di alluminio. Ma purtroppo presentano antiestetiche giunture tra un elemento e l'altro, rese ancora più evidenti quando vengono colpite dalla luce. Installare un battiscopa luminoso LED è semplice e alla portata di tutti. Basta tagliare le barre con un semplicissimo seghetto della lunghezza desiderata e applicarle a parete tramite un collante specifico lungo tutto il perimetro della stanza e successivamente poi installare il sistema LED. Qui potete vedere la parte a vista dello zoccolino luminoso. La feritoia è inclinata a 45 gradi e progettata per alloggiare perfettamente questo microprofile in alluminio con schermo. Questa caratteristica non è soltanto estetica, ma è pensata per garantire la massima efficienza luminosa. Non so se riuscite a vedere. È importante ricordare che il LED deve essere sempre applicato su una superficie dissipante per vietare i surriscaldamenti e prolungare la durata del sistema di illuminazione. Questo microprofile in alluminio, infatti, svolge proprio questa funzione, dissipando il calore generato dalla striscia LED. Sul retro del battiscopa ci sono delle linee guida, vedete queste linee qua in superficie. Queste linee guida indicano dove applicare la colla per un fissaggio sicuro e duraturo. Queste linee rendono l'installazione semplice e precisa, permettendovi di ottenere risultati professionali anche se non siete esperti del fai da te. Le colle che andremo a utilizzare saranno due. Questa di colore blu è per andare a riempire le linee guida e applicare a parete il nostro zoccolino. Mentre questa di colore rosso andremo a saldare le giunte tra le varie barre e le utilizzeremo anche per fissare il profilo di alluminio all'interno del battiscopa in quella fessura a 45 gradi, una volta fissato il tutto a parete. Questa è la micro strip LED utilizzata. Guardate che prodigio tecnologico. È larga soltanto 4 mm. E ha un'efficienza luminosa di ben 1200 lumen al metro. Naturalmente per ogni tratto di battiscopa deve esserci un arrivo guaina a bassa tensione. Queste guaine vanno tutte collegate ad una scatola di derivazione dove verrà posizionato un alimentatore da 24 volte con potenza adeguata per alimentare l'intero sistema. Questo battiscopa è la soluzione ideale per chi cerca illuminazione discreta ma efficace. Perfetto per corridoi, scale, bagni, cucine o qualsiasi altra stanza della vostra casa. Potete così creare un'atmosfera accogliente e raffinata con estrema facilità. Molto utile connetterlo a rivelatori di presenza per accensione automatica al passaggio oppure a regolatori dimmer di intensità luminosa per creare confortevolissime situazioni notturne. Quindi se volete trasformare i vostri ambienti con un tocco di luce in più il battiscopa luminoso LED è la scelta giusta per voi. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni o per acquistare il nostro kit. Sul nostro sito trovate ulteriori informazioni e costi ma vi consiglio di contattarmi direttamente per un preventivo personalizzato. In più possiamo anche fornirvi il solo battiscopa senza illuminazione nel caso aveste bisogno di un informare un ambiente. Grazie per avermi seguito e non dimenticate di iscrivervi al mio canale dedicato al mondo della luce e del design per scoprire altri prodotti innovativi come questo. Al prossimo video, ciao a tutti! Al prossimo video, ciao a tutti!